Amici di Accordo, buonasera, siamo a Umbria Jazz 2012, nell'ambito delle varie cose che abbiamo fatto abbiamo questa sera un ospite molto importante, Carlo Pagnotta, direttore artistico di Umbria Jazz. Noi siamo veramente stupiti dalla varietà di eventi e di situazioni che si vengono a creare in questi giorni. Soprattutto stupisce come la varietà di pubblico riesca a trovare molte risposte alle esigenze di stili diversi, di situazioni differenti, dall'arena ai palchi gratuiti. Come funziona una selezione così importante con artisti di questa rilevanza? Questa è la formula vincente che ormai va avanti da anni, è la formula vincente di Umbria Jazz, concerti nei piccoli posti con la musica adatta, nel main stage grandi artisti, nei teatri un jazz di nicchia, nei concerti gratuiti, chiaro ci vuole la musica più facile, più accessibile al pubblico che magari lecca il gelato e ascolta. E quindi ecco il fatto che dice che come ha scritto qualcuno sono tre festi all'in uno, il main stage, i concerti gratuiti e i concerti nei teatri e nei club. Sì, infatti anche ieri abbiamo visto, c'era una serata molto orientata ai puristi del genere, ma di fatto il jazz oggi è un genere che si è evoluto anche con contaminazioni più moderne, quindi anche i ragazzi giovani credo che abbiano avuto molto spazio nei palchi e siano una risorsa anche per il futuro, no? Perché a differenza di tanti anni fa oggi i giovani studiano, lo dimostrano le clinics di Umbria Jazz che da 27 anni ospita lo staff del Berklee College of Music di Boston, è la collaborazione più antica di questo famoso college e lo dimostra che anche quest'anno alla faccia della crisi sono 60 iscritti più dall'anno scorso, quindi i ragazzi studiano, ma infatti lo dimostra anche il fatto che abbiamo dei grandi musicisti italiani quando 15-20 anni fa ne si contavano in una mano. Abbiamo visto una città vestita a festa, ma sembra quasi essere questo l'unico posto possibile dove organizzare una cosa del genere, tanto siano coese le due manifestazioni. Credo che ci sia un'eccellenza anche della città in questo senso, sembra che sia molto partecipe, non solo il pubblico, mi riferisco anche al contesto proprio urbano, no? E anche probabilmente delle amministrazioni pubbliche, eccetera. Quanto c'è di tutto questo, cioè quanta coralità c'è per organizzare un evento del genere? La regione Umbria ci ha creduto dal 1973 e i risultati si sono visti. È stata lungimiranza, ci ha investito e adesso i benefici si vedono, perché qui parliamo di cultura, tutto quello che volete, il festival è importante, ma parliamo anche di turismo. Ecco, un'ultima nota direi sull'eccellenza, c'è un'eccellenza tecnica importante, noi siamo ospiti di Angelo Tordini che ci ha aperto le porte di questa manifestazione dal punto di vista tecnico, che poi è anche quello sugli strumenti che a noi interessa molto. Quanto è importante oggi essere all'altezza, anche per gli artisti internazionali che vengono qui e trovano situazioni magari diverse rispetto a quelle di altri festival? Quanto è importante? È molto importante, infatti da quando c'è Tordini non abbiamo più avuto nessun problema, nessun problema con le amplificazioni. Qualche volta succedeva che leggevamo sulla stampa che il concerto è andato bene, ma l'amplificazione non era un gran che e quindi ovviamente Angelo Tordini ha fatto e farà sempre un gran lavoro perché è un amico di Umbra Giants. Benissimo, io la ringrazio, è stata una chiacchierata molto interessante e in bocca al lupo per gli ultimi giorni che mancano. Voglio che ringrazio voi. Grazie mille, arrivederci.